Oggi Gorizia riesce ad essere attrattiva e fornire un servizio non soltanto per i propri cittadini, non soltanto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma essere attrattiva anche nei confronti di una porzione importante di persone che vivono in altre regioni. Un investimento importante per la sanità isontina, il nuovo robot chirurgico del costo di 2.300.000 euro destinato all'ospedale goriziano San Giovanni di Dio garantirà il duplice vantaggio di attrarre giovani professionisti di alto livello e di ridurre notevolmente sia i tempi d'attesa delle operazioni sia la durata della convalescenza dei pazienti. Ne sono convinti il vice governatore con delega alla salute Riccardi, il direttore generale Asugi Poggiana e il sindaco di Gorizia Ziberna, che hanno presentato in una conferenza stampa l'acquisto dell'importante macchinario insieme ai direttori di urologia e chirurgia. È un progetto sul quale abbiamo investito molto tempo, molte energie, è un progetto che ha appassionato tutti dall'inizio, che nasce su valutazione e analisi solide, che permette ad Asugi di crescere ancora di più. Il robot ad altissima precisione sarà utilizzato in prima battuta per le operazioni in urologia, anche per rispondere all'alta domanda del territorio in questo campo, ma sarà poi valutato il suo impiego anche in altri settori della chirurgia, che a Gorizia può contare su un'equip medica d'eccellenza. È un grande momento, è un momento di festa, è un momento così difficile che sta attraversando il paese, riuscire perciò a destinare risorse così importanti per far acquisire al nostro territorio questa tecnologia che sarà essenziale per diversi ambiti, non soltanto per urologia, dove grazie al professor Vianello abbiamo da avere un'eccellenza, ma anche per la chirurgia generale, la chirurgia bariatica, grazie al professor Balani, ma anche la sinologia che rappresenta anch'essa una grande e importante eccellenza. L'estensione dell'impiego del robot va fatta anche alla chirurgia generale, soprattutto alla chirurgia oncologica, alla chirurgia colorettale, alla chirurgia gastrica e anche, visto che a Gorizia è un nostro cavallo di battaglia, la chirurgia dell'obesità per la quale siamo un centro d'eccellenza di riferimento nazionale. Grazie.